Questa notte i carabinieri di Pagani hanno arrestato due 37 anni del posto, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sorpresi mentre spacciavano cocaina a un terzo acquirente. L'intervento è avvenuto nel centro cittadino nei pressi dell'abitazione di uno dei due soggetti trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Sempre la scorsa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Nocera Inferiore hanno arrestato un 35enne gravato da plurimi precedenti di polizia poiché sorpreso all'esito di perquisizione domiciliare con 50 grammi di crack oltre a materiale atto al confezionamento di dosi. Il 35enne su disposizione della procura della Repubblica Nocerina è stato portato presso la casa circondariale di Salerno. Grazie a tutti.